Buon pomeriggio a tutte le amiche e gli amici dell'Università della Terza Età di Pordenone. Oggi abbiamo in collegamento con noi Laura Pagliara, docente di lingua e letteratura russa, che ci parlerà di un autore contemporaneo del panorama letterario russo, Evgeni Vodlaskin. 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 A lei cedo la parola e buon incontro a tutti. Prego Laura. Grazie, grazie mille, grazie per l'invito che ho accettato con molto piacere perché ogni occasione per poter presentare, parlare di letteratura russa e di autori russi contemporanei per me è una grande gioia, una mia grande passione. Ringrazio per l'invito. Ben ritrovati, anche se appunto io purtroppo non vi vedo, vedo solo questa lucina verde. Quindi spero siate in tanti e come sapete se avete poi domande alla fine poi possiamo continuare la nostra conversazione. Allora, io comincerei subito. Giustamente, Evgeni Vodlaskin, un nome molto difficile da pronunciare ed è sempre quello che scoraggia un pochino, no? Dal avvicinarsi agli autori russi. A maggior ragione questo cognome, Vodlaskin, molto difficile. Non è difficile solo per noi, anche per i russi. Evgeni Vodlaskin l'ho scelto perché è uno degli autori più importanti del panorama letterario contemporaneo. Io l'ho conosciuto, a parte personalmente, ho conosciuto la sua opera nel 2012-13 e ne sono rimasta subito folgorata proprio perché a differenza di molti altri autori contemporanei comunque sempre molto bravi, lui mi pareva avesse un respiro molto più ampio, un respiro quasi della grande narrazione classica che io cercavo negli autori contemporanei da molto tempo e finalmente ero riuscito a trovare in Vodlaskin. Lui nasce a Kiev, come vedete, nel 1964, di formazione e filologo e studioso di cultura medievale antica russa. Infatti a fine degli anni 90 del secolo scorso si è poi trasferito nell'allora Leningrado come ricercatore, aveva un dottorato di ricerca in letteratura russa antica, in uno di quelli che è il dipartimento più prestigioso di letteratura russa medievale russo che si trova a San Pietroburgo, che allora era diretto da Dmitri Dikachov che è uno dei più grandi studiosi e interpreti della letteratura medievale. E per tanti anni, Vodlaskin tuttora vive a San Pietroburgo, per tanti anni lui si è dedicato solo allo studio scientifico, quindi soprattutto allo studio della geografia e delle vite dei santi del periodo medievale. E il suo interesse per l'ambito narrativo, l'ambito letterario è un po' più tardo. Infatti lui comincia, diciamo, il suo primo romanzo appare nel 2009 ed è un romanzo che non è stato tradotto ancora in italiano, si chiama Salavioff e Larionoff e comunque anche in questo romanzo già ci sono tutti i temi e c'è lo stile, ci sono tutte le caratteristiche che poi ritroviamo nelle opere successive che fanno, nelle opere successive non solo in Laura ma poi vedremo anche le opere, adesso aspettate che cerco di andare avanti, eccolo qua, nella seconda slide ci sono i libri pubblicati in Italia, sulla sinistra abbiamo Lauro che è il primo libro che è stato pubblicato in Italia, è stato scritto in russo nel 2012 e ha subito avuto un enorme successo, un enorme successo di critica ma anche di pubblico, poi ha vinto tutti i premi letterari russi esistenti e adesso credo sia uno dei libri più tradotti in tutto il mondo. Dopo Lauro nel 2016 Vada Laskin scrive L'Aviatore che fortunatamente è uscito anche in Italia per Brioschi Editore nel 2019 e da ultimo, l'ultimissimo libro che ha scritto Vada Laskin uscirà in Italia, però adesso abbiamo solo la copertina, uscirà in Italia sempre per Francesco Brioschi Editore, si chiama Brisbane e uscirà proprio il 18 marzo in questi giorni, quindi io sono molto contenta di poter finalmente leggere in italiano anche il terzo romanzo. Oggi noi parleremo solamente di Lauro per questione di tempo e anche perché comunque è il libro con cui iniziare il percorso di conoscenza di questo grande autore, ma vi consiglio caldamente di leggere anche L'Aviatore e poi ovviamente non appena uscirà anche Brisbane. La mia conoscenza con Lauro risale a 2012-2013, poco dopo che il libro è uscito in Russia. Mi ricordo che io stavo leggendo delle riviste letterarie russe in cerca di autori che potessero colpirmi in qualche modo e ho cominciato a leggere questo libro e subito mi ha colpito, veramente mi è piaciuto così tanto che ho cominciato a cercare i diritti, a contattare la casa editrice russa per vedere se i diritti erano ancora liberi, se erano già stati venduti in Italia e così appunto ho scoperto che erano già stati venduti alla casa editrice Elliot che poi avrebbe pubblicato il libro nel 2014. Lauro appunto è il secondo libro di Vada Laskin e per questo libro Vada Laskin è stato definito l'Umberto Eco Russo perché è il libro ambientato nel Medioevo Russo. E' sostanzialmente la storia di un giusto, la storia di un santo, di un uomo buono, e noi sappiamo quanto è difficile descrivere la vita di un uomo positivamente bello, di un uomo giusto, di un santo, un po' perché si rischia di farne appunto un santino, un po' perché si rischia anche di dare l'impressione di voler insegnare qualcosa e poi perché obiettivamente parlare di una persona positiva, di una persona bella rischia anche di rendere la narrazione un po' noiosa. Di solito sono sempre i cattivi, i villani, i villain che suscitano l'interesse. Infatti la maggior parte dei romanzi, i romanzi che si vendono di più sono quelli, sono i gialli, sono i trida, dove c'è sempre il cattivo. E poi sappiamo che, come diceva anche Tastoi, la felicità è statica, la felicità non fa storia, invece quello che fa storia sono i problemi, sono le vicissitudini. Però Vadalaskin non si fa scoraggiare, nonostante capisca quanto sia difficile ed è per questo che sceglie di ambientare la sua storia nel Medioevo russo, un po' perché lui è uno studioso di quel periodo, quindi lo conosceva molto bene, e un po' perché nel Medioevo russo uno dei generi letterari più utilizzati è quello della geografia, cioè della storia appunto di un santo, la storia di un giusto. E quindi era forse il periodo storico migliore in cui ambientare questo tipo di biografia spirituale del personaggio. E il fatto che sia così difficile descrivere un uomo giusto, diceva Vadalaskin, cioè è impossibile, dice lui, mi rivolgo al passato perché è impossibile usare il materiale contemporaneo per descrivere una persona simile. E se anche fosse possibile l'unica persona che riuscirebbe a farlo sarebbe Dostoevsky. Dostoevsky è sempre un grande riferimento per tutti gli scrittori. In effetti, se ci pensate, una delle poche persone che è riuscita a scrivere di una persona giusta, positivamente bella, è Dostoevsky con l'idiota e il famoso principe Muischkin. Io qui vi ho riportato, vediamo se è così, ecco, questo è un brano tratto dalle lettere che Dostoevsky ha scritto alla nipote, scriveva alla nipote, in cui spesso parlava dei suoi problemi artistici, creativi, e era proprio nel periodo in cui stava scrivendo, doveva scrivere, voleva scrivere l'idiota, e anche lui si rende conto di questo problema, dice tutti gli scrittori, non soltanto russi, ma anche tutti gli europei che si sono accinti alla rappresentazione di un carattere bello e allo stesso tempo positivo, hanno sempre dovuto rinunciare, già che si tratta di un compito smisurato, perché il bello è un ideale e l'ideale, sia il nostro, sia quello dell'Europa civilizzata, è ben lontano dall'essere elaborato. Quindi Dostoevsky stesso si rendeva conto di questa difficoltà, ma lui era riuscito comunque a prendere il materiale dal presente per riuscire a costruire questa figura di eroe positivo. Badalaskin invece si rifà al Medioevo. Andiamo ancora avanti, eccolo qua. Allora, qui abbiamo visto la copertina, Lauro, romanzo non storico. Allora, Lauro è l'ultimo nome con cui conosciamo il protagonista, il protagonista segue una serie di fasi importanti nel suo percorso di crescita, nel suo percorso di vita, e in ogni fase importante della sua vita avrà un nome diverso, appunto Lauro sarà il suo ultimo nome, quello che incontreremo nell'ultimo libro, il libro della pace. È un medico, è un medico leggendario, che ha un grande dono, il dono della guarigione. Noi lo conosciamo nel primo libro, il libro della conoscenza, come vedete abbiamo questi quattro libri, anteceduti dai prolegomeni, noi lo conosciamo nel libro della conoscenza, che si chiama Arsegno, ed è un bambino di otto anni, che rimane orfano dei genitori, li perde in seguito alla peste, e viene cresciuto dal nonno Cristoforo. Il nonno Cristoforo è anche un guaritore, anche lui è un guaritore, che lo introduce un po' alla volta ai segreti curativi delle erbe. Quindi questo bambino cresce in questo villaggetto, nel villaggio di Ruchino, nel nord della Russia, e poi cresce, diventa grande, muore il nonno Cristoforo, lui conosce Ustina, una ragazza della sua età, di cui si innamora perdutamente, e che lui stesso guarisce dalla peste. Ustina diventerà il suo grandissimo amore, un grande amore che lui ha paura di rivelare al villaggio, ha paura che, se gli abitanti del villaggio vengono a scoprire che loro vivono assieme, poi li vogliono separare perché vivono nel peccato, e quindi la tiene nascosta da tutti. Quando lui riceve i pazienti nella sua isba, Ustina si nasconde in una stanza vicina, senza fare un rumore. Però poi alla fine sarà comunque costretto a separarsi da Ustina, perché Ustina morirà di parto assieme al bambino, e la morte di Ustina ovviamente riempirà di grande dolore. Arsenio impazzirà per il dolore, per il dolore della perdita, e per il dolore, per il senso di colpa, perché lui si ritiene colpevole della morte di Ustina. Ustina è morta senza confessarsi, è morta nel peccato, quindi lui non solo è colpevole della morte fisica di Ustina, ma è anche colpevole della perdizione della sua anima. E da questo momento, da questa morte, comincia il percorso di Arsenio, un percorso che lo porterà poi diciamo a una crescita spirituale, quindi un percorso diciamo verticale, ma anche un percorso orizzontale, un percorso nello spazio, perché lui comincerà, poi lascerà il villaggio, e comincerà a vagare. All'inizio girerà di villaggio in villaggio, come medico ambulante, e per curare poi tutti i malati di peste, e poi la sua fama diventerà sempre più, la sua fama diciamo correrà per la terra di Russia, e viene invitato in diversi villaggi per andare a curare appunto le persone che morivano di peste, perché subito si capisce che lui non è un guaritore comune, ma questo dono, che riesce a guarire non solo con le erbe, ma anche con la sua sola presenza, con la sua forza, con il suo spirito, e lui comincerà appunto a vagare per questi villaggi, fino a che non si fermerà per un periodo un po' più lungo, in un villaggio più a nord, accolto da un principe, poi quando si accorge che sta cominciando ad abituarsi alle comodità che gli offre il principe, se ne vergogna, e decide di partire ancora, chiedendo a Dio di non fargli mai venire meno la memoria, la memoria del dolore, perché solo grazie alla memoria del dolore riuscirà a salvare la sua ustina dalla dannazione eterna. E così comincia, qua nel libro dell'abnegazione, tutto questo libro, tutto questo racconto del percorso di Ustino, del viaggio di Arsegno per i villaggi della Russia, e in questo camminare senza meta, in questo camminare senza meta lui verrà derubato, verrà picchiato, verrà spogliato dei vestiti, verrà picchiato un'altra volta, si ritroverà più volte in fin di vita, verrà ospitato da qualche animapia, il più delle volte invece verrà scacciato, e alla fine, dopo molto tempo ridotto malamente direi, arriverà nella grande cittadina di Pscoff. E qui a Pscoff avremo un'ulteriore trasformazione di Arsegno che assumerà il nome di Ustino perché deciderà di dare la propria vita, di consacrare la propria vita a Ustina, quindi rinuncerà al nome di Arsegno, prenderà su di sé il nome di Ustino e diventerà un folle in Cristo. Un folle in Cristo che sono degli asceti, dei mistici tipici della tradizione religiosa ortodossa e in russo si dice Yurodvi, questo è il folle in Cristo, è colui che rinuncia alla sapienza umana per aprirsi alla sapienza del cuore, una sorta di santo, di folle. E starà tanti anni, diversi anni, a Pscoff appunto come folle in Cristo, questi folli in Cristo che di solito, poi vedremo, io ho portato anche un'immagine del folle in Cristo, di solito si comportavano in modo molto bizzarro, quasi folle, erano vestiti di stracci e facevano lunghi digiuni, lunghe veglie e avevano comunque anche dei poteri, il potere di Arsegno e di Ustino era quello di guarire, lui continuerà a guarire e a fare prodigi. E dopo tanti anni cambia ancora, comincia una nuova tappa del percorso e qui che verrà descritta nel libro del Cammino e in questa nuova tappa Arsegno, che poi è diventato Ustino, cambierà di nuovo nome e col nome di Ambrogio intraprenderà il viaggio come palmiere in Terra Santa, accompagnato poi da un personaggio di origine italiana che si chiama Ambrogio Flecchia e qui lo seguiamo in questo viaggio avventuroso, diciamo questo terzo libro che il libro del Cammino è un vero e proprio libro di avventure con un sacco di colpi di scena, di avventure strane che segue il viaggio da Pskov via Terra e poi via Mare, da Venezia via Mare fino a Gerusalemme, la Terra Santa. Poi in una nuova fase di vita lo ritroviamo alla fine il libro della pace, dopo tanti anni lo ritroviamo invece di nuovo tornato in Russia, questa volta con il nome di Lauro si fa Monaco e poi è remita fino ad arrivare alla morte del nostro protagonista in odore di santità. Quindi come vedete è una sorta proprio di biografia nello stile della geografia classica dalla nascita fino alla morte di questo giusto e durante questi percorsi lui arriva a livelli sempre più alti di santità. il libro come vedete è suddiviso appunto in queste parti ci sono i prolegomeni allora aspettate che vediamo se vado avanti eccolo ci sono i prolegomeni che sono appunto una introduzione di solito i prolegomeni sono un'introduzione a un qualcosa che viene a un trattato scientifico a qualcosa di scientifico e nei prolegomeni queste sono proprio le prime righe del romanzo che apre così dice in epoche diverse ebbe quattro nomi questo potrebbe rappresentare un vantaggio dato che la vita dell'uomo è multiforme a volte succede che le sue parti abbiano poco in comune talmente poco da sembrare vissute da persone diverse e in questi casi c'è da meravigliarsi che portino tutto lo stesso nome e in effetti appunto la vita è multiforme le parti della vita di uno di noi a volte sembrano avere poco in comune infatti Vadalaskin si chiede spesso dice gli scienziati ci hanno insegnato che ogni sette anni tutte le cellule del nostro corpo cambiano completamente quindi dal punto di vista fisico noi siamo completamente diversi e lui dice io mi sono sempre interrogato cosa c'è di comune cosa lega quello che sono io adesso a quello che ero io vent'anni fa quasi niente quello che noi ricordiamo sono solamente le cose principali e quello che io sono adesso non aveva niente in comune con quello che io ero vent'anni fa ed è quindi strano che io sia sempre io col mio stesso nome e in questo caso invece il nostro protagonista coerentemente con questo punto di vista cambia nome cambia nome a seconda delle varie fasi della sua vita e vediamo se andiamo avanti beh qua vi ho portato una questa è una cartina del viaggio di Arseni dove c'è la stella non so se voi non credo che voi vediate il mio puntatore no dove c'è la stella c'è scritto Rucchino è il villaggio di Rucchino dove tutto ha inizio dove cresce il nostro protagonista Arseni poi appena in alto un po' più a nord c'è il villaggio di Bielazersk dove si ferma per un po' di tempo e dove ancora Arsenio il guaritore comunque leggendario che guarisce tutti dalla peste poi con questa freccia dritta quasi orizzontale si arriva a Pskov e in realtà il suo viaggio non è stato così rettilineo così orizzontale ma vagava per i vari villaggi fino ad arrivare a Pskov a Pskov starà tanti anni e poi il resto sarà tutto il viaggio che lui farà per andare fino a Gerusalemme per poi per poi ritornare giusto per farvi vedere qual era l'ampiezza qual è stata del suo viaggio ed eccoci appunto così ricordiamo meglio riusciamo a fissare meglio i vari nomi del nostro del nostro personaggio vediamo il libro della conoscenza il primo libro in cui si parla dell'infanzia di Arsenio che nasce e cresce nel villaggio di Ruchino che viene viene introdotto dal nonno Cristoforo come vi dicevo ai segreti curativi delle erbe ai detti dei grandi dei grandi personaggi del tempo a tutta la conoscenza del tempo Cristoforo insegna tutto ciò che può e poi c'è il libro della negazione quando pazzo di dolore Arsenio interprende questo viaggio di redenzione fino ad arrivare a Pskov dove diventa il folle in Cristo Ustino e poi ancora questa terza tappa del libro del cammino Ustino cambia il nome in Ambrogio e interprende il viaggio in terra santa fino poi all'ultima tappa quella finale che lo vede ormai Monaco Ramito è quasi santo che è il libro della pace e finalmente il nostro protagonista raggiunge la pace quindi è un cammino di redenzione è un cammino diciamo che è un po' questa articolazione in quattro libri rappresenta un po' dopo il libro della conoscenza la caduta del paradiso la caduta nel peccato e tutto il cammino che porta appunto alla redenzione e soprattutto un cammino di redenzione nel nome dell'amore perché il cammino che interprende il nostro personaggio è per salvare l'anima di di Ustina e il loro amore diventerà sempre più grande nonostante fisicamente lei non ci sia più però a mano a mano che si innalzano questi livelli di spiritualità nel nostro protagonista il loro amore diventerà sempre più forte ecco io adesso vi ho portato giusto per farvi entrare un po' in quello che è lo spirito del romanzo e non solo parlarne così vi ho portato un piccolo brano un breve brano anzi due brani vorrei leggervi oggi uno tratto dal primo libro della conoscenza proprio all'inizio e uno invece tratto dal libro della benigazione che ci descrive questo folle in Cristo allora qui per introdurre abbiamo questo scritto su corteccia di Betulla come vi dicevo il nonno Cristoforo introduce Arsenio alla conoscenza gli insegna a leggere gli insegna a leggere su queste cortecce di Betulla in cui appunto scrive con con un osso incide questa Betulla con un osso e e per Arsenio sarà veramente cioè Arsenio riuscirà a cioè leggerà di tutto perché Cristoforo scriverà non solo le ricette delle erbe mediche ma scriverà anche i detti dei grandi personaggi del tempo osservazioni quotidiane oppure tutta la conoscenza e la morale del tempo ma andiamo a allora eccoci qua io lo leggo da qua anche se non riesco a leggere molto bene a leggere Arsenio imparo molto presto le lettere che gli aveva mostrato Cristoforo le mandò a memoria in qualche giorno e quasi subito senza alcuna fatica cominciò a comporne parole all'inizio lo infastidiva che nella maggior parte dei libri le parole non fossero staccate e si susseguissero senza intervallo una volta Arsenio domandò perché le parole non si scrivevano separatamente hai mai sentito che si pronunci non separatamente domandò a sua volta Cristoforo ti dirò anche di più accade che non abbia nessuna importanza come chi abbia pronunciato una parola l'importante che sia stata pronunciata o almeno pensata la prima più amata lettura di Arsenio divennero le note di Cristoforo scritte su corteccia di Betulla per diverse ragioni le lettere sulla Betulla erano scritte con una grafia spessa e chiara le tavolette non erano di grandi dimensioni ed erano accessibili perché sparpagliate ovunque nell'isba Arsenio vedeva come venivano realizzate in primavera quando nelle piante cominciavano a muoversi le linfe vitali Cristoforo si metteva a raccogliere cortecce di Betulla strappava dagli alberi pezzi larghi e regolari poi li cuoceva per qualche ora in acqua salata la corteccia diventava morbida e perdeva la friabilità dopo questo procedimento Cristoforo la tagliava in foglie rettangolari così la corteccia era pronta per l'uso e sostituiva egregiamente la costosa carta Cristoforo non aveva eletto un'ora particolare per scrivere poteva farlo di mattina durante il giorno la sera a volte quando gli veniva un pensiero importante si alzava di notte per appuntarlo Cristoforo notava per iscritto anche quello che aveva letto nei libri il re Salomone aveva 700 mogli 300 concubine e 8000 libri scriveva le proprie osservazioni il settimo giorno del mese di settembre Arsenio ha perso un dente scriveva le preghiere per la guarigione la composizione delle medicine la descrizione di erbe notizie sulle anomalie della natura segni meteorologici e brevi massimi di carattere morale guardati dal silenzio di un uomo cattivo come delle fauci di un cane feroce sul verso della corteccia incideva le lettere con uno stilo di osso non scriveva per paura di dimenticare qualcosa anche giunto alla vecchiaia non dimenticava nulla gli sembrava che la parola scritta contribuisse all'ordine del mondo ne fermasse la fugacità impedendo ai concetti di sbiadire proprio per questo erano così vasti gli interessi di Cristoforo pensava che per ampiezza dovessero corrispondere al mondo stesso le sue note Cristoforo le lasciava là dove le scriveva sulla panca sulla stufa sulla catasta di legna non le raccoglieva quando cadevano sul pavimento perché aveva la vaga idea che un giorno sarebbero state rinvenute in uno scavo archeologico Cristoforo capiva che la parola scritta rimane per sempre qualsiasi cosa fosse accaduta la parola scritta poteva considerarsi compiuta osservando gli spostamenti di Cristoforo Arsenio sapeva dove si trovavano le note a volte appena trovato un foglio nello stesso posto se ne scopriva un altro e spesso non solo uno ad Arsenio il nonno sembrava una gallina dalle uova d'oro non restava che raccoglierle in tempo dall'espressione del volto di Cristoforo il bimbo imparò a intuire il contenuto delle note le sopracciglia corruciate facevano supporre che in quella particolare nota si denunciavano gli eretici l'espressione di mita e gioia accompagnava di solito gli eforismi didattici annotando altezze volumi e distanze Cristoforo come risultava dalle osservazioni di Arsenio si grattava al naso con aria pensosa il fanciullo leggeva a voce alta le note scritte sulla corteccia di Betulla nel medioevo in generale tutto veniva letto a voce alta o almeno semplicemente muovendo le labbra quelle che gli piacevano di più Arsenio le metteva in un'apposita cesta se qualcuno ingoiato un osso resta soffocato invoca l'aiuto di San Biagio Basilio di Cesarea afferma che Adamo trascorse nel paradiso 40 giorni non stringere amicizia con una donna se non vuoi diventare preda del fuoco la varietà di quelle informazioni colpiva la fantasia del bambino ecco giusto un breve assaggio per capire com'è l'intonazione anche di questo romanzo e poi ritornerò anche su questo anche su quella sorta di ironia costante che accompagna un po' tutto il racconto un'ironia che è dovuta anche da proprio da uno scarto fra lo sguardo dei protagonisti uno sguardo dei protagonisti che vivono nel Medioevo e lo sguardo esterno lo sguardo contemporaneo ad esempio quando si dice il fanciullo leggeva a voce alta le note scritte sulla corteccia di Betulla nel Medioevo in generale tutto veniva letto a voce alta questo è ovvio che è un'incursione diretta dell'autore contemporaneo all'interno e questo ci fa sorridere un pochino c'è questo continuo e in tutto il libro c'è questo continuo gioco scarto fra i personaggi che parlano che sono immersi nel loro tempo e che quindi non hanno questa conoscenza assoluta di tutto e l'autore che interviene per dire sì perché nel Medioevo nell'antica Russia era così e quindi Lauro è un libro ambientato come dicevo nel Medioevo nella forma di narrazione geografica ma è anche una grande storia d'amore è anche una grande storia di avventure perché il libro veramente è pieno di avventure ed è un libro che casualmente possiamo dire è ambientato nel Medioevo cioè è ambientato nel Medioevo e questo magari ci fa credere che si possa trattare di un libro storico in realtà non è un libro storico e questo ce lo dice lo stesso autore torno indietro se riesco sì sto tornando ecco volevo tornare indietro eccolo vedete nella copertina italiana noi abbiamo semplicemente il titolo Lauro invece nell'originale russo Vada Laskin avvisa il lettore con un sottotitolo il sottotitolo è romanzo non storico e lo avvisa dicendo appunto questo non è un romanzo storico perché a Vada Laskin non interessa la ricostruzione storica degli eventi non interessa fare un romanzo in costume quindi non interessa la storia con la s maiuscola ma quello che a lui interessa è la storia individuale la storia dell'uomo solo di fronte ai propri problemi di fronte a quelle che sono le grandi le categorie eterne come il bene il male la morte l'amore l'amicizia quindi è la storia individuale la storia di un singolo uomo che interessa a Vada Laskin perché la letteratura per lui deve riflettere sull'uomo non sugli eventi e quindi come dice Vada Laskin stesso il romanzo è un romanzo non solo non storico anzi è un romanzo a storico sul mondo contemporaneo e Lauro il nostro protagonista non è un personaggio medievale ma è un personaggio che è un po' fuori dal tempo perché rappresenta l'uomo in generale appunto l'uomo al di là di quelle che sono le contingenze storiche e lui dice appunto io mi sono rivolta al passato come dicevo prima un po' perché il passato medievale è quello che conosco meglio un po' perché appunto il medioevo a differenza dell'età contemporanea dava molta importanza alla metafisica alla spiritualità al rapporto con Dio e io volendo parlare della vita di un giusto ho trovato più consono questo periodo e però diceva Dallaskin attenzione non si tratta di un personaggio medievale ma è un personaggio a tutti gli effetti del presente un personaggio contemporaneo e in questo devo dire che molti autori contemporanei russi si rifanno ai segni del passato ai simboli del passato per poter invece parlare del presente e appunto sempre Dallaskin dice perché per parlare del presente posso farlo in due modi o descrivo il presente cioè descrivo ciò che c'è nel presente oppure evidenzio ciò che nel presente manca è la figura del nostro personaggio di Arsenio di Lauro di come lo vogliamo chiamare in uno di questi quattro nomi la figura di questa persona giusta di questa persona santa grande peccatore ma anche persona santa evidenzia quello che manca nella nostra società odierna dove impera il culto dell'individualità dell'individualismo del successo quello che manca è l'umanità il sapere darsi agli altri aprire il nostro giardinetto invece di curarsi solo il nostro giardinetto ecco e in questo senso il romanzo il protagonista è un protagonista contemporaneo perché rappresenta quello che manca quindi questo senso di umanità a cui dovremmo ricorrere e per Vadalaskin la letteratura insegna la letteratura è capace diciamo di di trasmettere questo trasmettere queste grandi qualità a cui l'uomo deve tornare quindi Lauro come dicevo appunto non è solo un romanzo sul medioevo ma è molto di più quindi un romanzo a tutti gli effetti contemporaneo adesso vorrei ancora per darvi un piccolo assaggio di di questo romanzo però il romanzo è molto lungo vediamo molto lungo ha adesso subito ha circa 300 pagine ed è molto pregno è molto ricco ricco di tante cose ricco di tanti eventi di tanti spunti di tante eventure è veramente un piacere leggerlo quindi ho deciso di leggervi alcune pagine brevi pagine giusto per darvi un'idea per darvi il gusto di questa narrazione ma l'unico modo per averla piena ovviamente leggerlo e con questo nonostante vi abbia raccontato molte cose della storia della trama del romanzo di certo non vi ho rovinato il gusto della lettura perché molte altre cose in più succedono e allora il prossimo il prossimo brano che vorrei leggervi è tratto dal secondo libro il libro dell'abnegazione vi dicevo alla morte di Ustina Arsenio il protagonista muore impazzisce per il dolore impazzisce per il dolore per la perdita di Ustina per il senso di colpa e decide di donare la propria vita a Ustina e di intraprendere questo percorso per questo viaggio questo girovare questo percorso come vi dicevo non è solo un percorso spirituale ma anche un percorso fisico e cammin facendo per i villaggi della Russia si ritrova a Pskov in questa grande città e qui lui decide di non parlare più perché non c'è più bisogno di parlare noi lo sentiremo parlare solo perché lui parlerà nel suo pensiero direttamente a Ustina non parlerà più con nessun altro quindi si richiude nel silenzio comincerà questa vita di folle in Cristo continuando a curare la gente a fare i suoi prodigi e comportandosi in questa maniera bizzarra come tutti i folli in Cristo a Pskov quando lui arriva c'erano già altri due folli in Cristo uno che si chiama Tommaso e l'altro invece che si chiama Carp e Pskov è attraversata da un grande fiume il fiume Velicaia che vuol dire appunto grande e anche da un altro fiume più piccolo che si chiama Pskova che divide la città in tre zone quindi una zona era già abitata da questo folle in Cristo Tommaso una zona invece era il dominio il feudo del folle in Cristo Carp e poi arriva lui che occuperà poi la terza zona e qui vediamo l'incontro il primo incontro fra Arsenio che ormai si presenta tutti come Ostino e Tommaso eccolo qua dal libro del capitolo secondo il libro dell'abnegazione Arsenio vagò tutto il giorno lungo la sponda del fiume Velicaia visto arrivare il traghetto decise di attraversare di nuovo il fiume e tornare indietro questa volta il traghettatore non gli chiese soldi si limitò a dire sali se vuoi uomo di Dio penso che la tua visita sia un segno propizio giunto e arriva Arsenio si imbatte in Tommaso un folle in Cristo aha gridò Tommaso vedo che sei un autentico folle in Cristo autentico puoi stare tranquillo io lo fiuto ho un fiuto di prima classe ma sai amico mio che ogni punto della terra di Pskov può ospitare un solo folle in Cristo Arsenio taceva allora Tommaso lo prese per mano e lo trascinò con sé quasi correvano lungo le mura della fortezza e Arsenio non vedeva come avrebbe potuto fermare quella corsa Tommaso non mollava davanti a loro apparve un altro fiume era il Pskova che portava le sue acque al fiume Velicaia là sull'altra riva del fiume Pskova disse Tommaso vive il folle Carp il suo eloquio è scarno e incomprensibile qualche volta non comunica che il proprio nome ripetendolo ossessivamente Carp 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 è una persona dignitosa non di meno in linea di massimo una volta al mese mi tocca picchiarlo accade quando lui attraversa il fiume viene in città picchiando la sangue io lo incito a non lasciare il suo settore di Zapscovie gli insegno qual è il suo feudo gli dico che senza di lui il suo feudo rimane orfano mentre nel mio settore della città si produce un eccesso della nostra razza e tu sai che l'eccesso è peccaminoso e conduce il voto spirituale ecco lo vedi il folle in Cristo Tommaso incrociò le braccia sul petto e guardò la sponda opposta da lì lo minacciava col pugno il folle in Cristo Carp minacciami pure minacciami gridò al folle in Cristo Carp senza cattiveria se ti pesco qui ti spezzo le ossa però scusate ho una cosa qua davanti non riesco più a leggere ti spezzo le ossa non riesco più a leggere quest'ultima parte e voi spero che la leggiate perché io qua ho il cursore vado avanti mi hanno scambiato per un folle in Cristo disse a segno Austina e che cosa dovrei pensare se mi ravegliò Tommaso guarda tu stesso Arsegno sei un autentico folle in Cristo dato che hai scelto una vita selvaggia e disprezzata dagli altri conosci anche il mio nome di battesimo Tommaso rise e come non conoscerlo se il nome di battesimo sta scritto in fronte a ogni persona indoviniare Ustino è più difficile qui sono d'accordo con te ma questo nome tu stesso lo annunci agli altri dunque fai il folle mio caro e non vergognartene altrimenti con la loro venerazione quelli ti snerveranno la loro venerazione non si concilia con i tuoi scopi ricordi come è andata a Bielazersk vuoi che vada ancora allo stesso modo chi è il costruito che conosce i miei segreti Arsenio si volse a Tommaso chi sei fratello mio Marameo rispose Tommaso tu fai domande inutili e io ti dirò la cosa più importante ritorna a Zavedice dove nella futura nella futura piazza Kansamolskaya si trova il convento di San Giovanni Battista credo che nel suo cimitero tu abbia già dormito la notte scorsa rimani lì e credimi in quel convento avrebbe potuto vivere Ustina ritengo semplicemente che non ci sia potuto arrivare e tu invece vi sei giunto prega per lei e per te stesso sii contemporaneamente te e lei non badare alle regole essere pio è facile è piacevole invece tu sii odiato da tutti non dare requie agli abitanti di Pscov sono pigri e non aspirano a sapere Amen Tommaso allungò il braccio e colpì Arsenio in faccia Arsenio lo guardò in silenzio sentendo il sangue e scorregli dal naso sul mento e sul collo Tommaso abbracciò Arsenio e anche la sua faccia si insanguinò Tommaso disse dandoti tutto tutto a Ustina tu lo so mortifichi il tuo corpo ma la rinuncia al corpo non è tutto è proprio questa rinuncia che può condurre la superbia ma che cosa posso fare pensò Arsenio fa di più gli sussurrò all'orecchio Tommaso rinuncia la tua persona hai fatto il primo passo quando hai preso il nome di Ustino rinuncia a te stesso adesso rinuncia a te stesso totalmente e poi qui continua ancora il discorso fra Tommaso e Ustino e si conclude qua un'ultima parte per farvi capire anche come agivano questi folli in Cristo camminando per le strade di Zavilice Arsenio prendeva sassate le case delle persone pie i sassi centravano le travi con un rumore sordo gli abitanti uscivano fuori e Arsenio si inchinava davanti a loro e si segnava Arsenio si avvicinava alle case dei depravati oppure di quelli che si comportavano in modo indecente cadeva i ginocchioni baciava i muri e poi bofonchiava qualcosa a bassa voce e quando molti si meravigliarono di tale comportamento il folle in Cristo Tommaso disse a pensarci bene cosa c'è di tanto strano il nostro fratello Ustino ha ragione quando tira i sassi alle case delle persone pie e dignitose gli angeli hanno già cacciato da quelle case tutti i demoni i demoni e quelli per paura di entrarvi come sappiamo per esperienza si aggrappano agli angoli dei edifici il folle in Cristo Tommaso indicò una delle case non vedete forse una moltitudine di demoni appiccicati agli angoli non la vediamo risposero gli astanti ma egli la vede è per questo che tira sassi nelle case delle persone ingiuste i demoni si trovano ancora dentro perché gli angeli che sono destinati a costruire l'anima umana lì non possono abitarci gli angeli stanno davanti alla porta e piangono per quelle anime perdute il nostro fratello Ustino si rivolge agli angeli e chiede loro di non interrompere le loro preghiere affinché le anime non muoiano definitivamente e voi maledetti pensate che lui parli ai muri ecco quindi giusto due brevi brani del romanzo che possono darvi proprio un'idea minima di quello che è giusto per farvi capire qual è il tono nonostante la mia lettura magari un po' troppo veloce e affannosa adesso giusto due parole su quello che sono i temi principali di questo romanzo vediamo eccoli qua che ho cercato di riassumerli in questa slide è sicuramente il tempo diciamo che l'idea di fondo del romanzo è quella del carattere illusorio del tempo e questo ci viene già suggerito da queste continue incursioni dell'autore della contemporaneità nel presente pensate guardate torno un secondo indietro e vi faccio vedere proprio ecco siamo qui quando dice Marameu rispose Tommaso tu fai domande inutili e io ti dirò la cosa più importante ritorna a Zavilice dove nella futura piazza Kansamolskaya ecco qua ovviamente il lettore rimane spiazzato perché siamo nel Medioevo siamo nell'antica Russia siamo nel 1400 nel 1477 precisamente in questo periodo e qua mi parlano della futura piazza Kansamolskaya che è una piazza che è stata chiamata così in epoca sovietica quindi ci sono queste continue incursioni che spiazzano e che vogliono corroborare l'idea che il tempo alla fine non esiste e poi però l'autore ce lo farà capire anche in altro modo legato all'idea del tempo è il personaggio di Ambrogio Flecchia Ambrogio Flecchia è un viaggiatore italiano di Manzano che ha un altro dono ha un dono cioè come mentre Arsenio ha il dono della guarigione Ambrogio Flecchia ha il dono delle visioni della preveggenza più che la preveggenza delle visioni lui riesce a vedere stralci di avvenimenti futuri stralci di destini umani attraverso diverse epoche storiche ad esempio prevede la scoperta dell'America da parte di Colombo nel 1492 prevede l'alluvione a Firenze che ci sarà nel 1976 prevede Schliemann vede Schliemann che scopre Troia vede i pellegrini che andranno a scoprire le isole di Salafki e quindi prevede anche quello che sarà il futuro delle isole di Salafki e qui faccio una piccola apre una piccola parentesi sulle isole di Salafki o Salavieckie conosciute anche come Salavieckie non so se ne avete mai sentito parlare le isole Salafki si trovano nel Mar Bianco su un piccolo gruppo di isole che si trova sul Mar Bianco a nord vicino al circolo polare artico e sono stati per lunghi anni per lunghi secoli il centro spirituale hanno rappresentato il centro spirituale russo perché nel Cinquecento un gruppo di pellegrini annacoretti si sono insediati in queste isole poi negli anni è stato fondato anche un monastero importantissimo e così per circa Cinquecento anni le isole Salafki sono state veramente il centro il massimo centro spirituale russo poi invece ironia del destino questo monastero è stato chiuso e nei primi anni del ventesimo secolo del novecento il luogo dove c'era il monastero è stato trasformato in un campo di concentramento cioè in un lager in quello che è stato chiamato Slon ossia il lager speciale delle Salafki e che è stato proprio negli anni nel 22 è stato fondato è stato uno dei diciamo il prototipo di quello che poi sarebbe diventato il sistema dei gulag in tutta l'Unione Sovietica quindi con Stalin e poi con gli altri anni però il primo esempio di gulaga quando ancora non si chiamavano gulag è stato questo lager delle isole Salafki e faccio questa piccola parentesi perché è un tema è un luogo che ricorre spesso nei romanzi degli autori contemporanei che se li fanno come vi dicevo sempre più il passato hanno bisogno di confrontarsi di nuovo quel passato per capire cioè indagare il passato per capire come si è arrivati a questo presente e lo stesso Vadalaskin aveva già scritto un saggio sulle isole Salafki riportando dei documenti del tempo lo ritroviamo qui in un piccolo cameo il romanzo successivo di Vadalaskin aviatore l'aviatore sarà proprio ambientato per metà negli anni trenta alle isole Salafki per metà invece a San Pietroburgo alla fine del novecento oppure non so se conoscete un altro autore contemporaneo molto famoso è Zachar Priliepin e una delle sue ultime opere secondo me anche la più bella è Abitiel la cattedrale è stato tradotto in italiano che è proprio ambientato negli anni trenta in questo isole delle Salafki in questo ladder e le Salafki sono viste come una sorta di modello di quello che è la Russia il modello perché è una concentrazione di tutte le contraddizioni che segnano la storia russa quindi simbolo di grandissima spiritualità ma simbolo anche di grandissima repressione qui chiudiamo la parentesi e torniamo invece al nostro lauro e quindi Ambrogio Flecchia è interessato all'idea del tempo lui si interroga costantemente su che cos'è il tempo e a un certo punto a Firenze dove lui sta studiando le arti del trivium del quadrivium arriva un mercante russo feroponte e gli dice che in Russia stanno tutti aspettando la fine del mondo la fine del mondo che sarebbe venuta nell'anno 7000 ossia il nostro 1492 perché altra cosa che apprendiamo leggendo questo romanzo nell'antica Russia gli anni si calcolavano a partire dalla creazione del mondo quindi il 1492 corrispondeva all'anno 7000 incuriosito Ambrogio Flecchia parte per andare in Russia e appunto questo è quello che dice lui raggiungendo i confini dello spazio forse imparerò qualcosa sul tempo eccolo qua vedete quindi tutte le riflessioni sul tempo le porta avanti proprio Ambrogio Ambrogio Flecchia che grazie a il fatto che lui riesca ad anticipare il futuro gli conferma un po' questa convinzione che nulla nella vita sia un caso vi leggo giusto una frase che lui dice si lui dice niente sulla terra accade per caso le persone si incontrano tra loro urtandosi come atomi non hanno una traiettoria propria ed è per questo che i loro destini sono casuali ma nell'insieme di questa casualità esiste una predeterminazione una sorta di legge che in parte può essere prevista tuttavia conoscerla perfettamente è solo colui che ha creato il tutto e questa è una forte convinzione di Vadalaskin scrittore autore che appunto i nostri destini sono casuali perché nella vita succedono tanti tanti casi fortuiti tanti casi accidentali che definiscono poi il nostro il nostro cammino noi siamo un po' come palline di biliardo di biliardo di flipper anzi direi che sbattono contro un angolo prendono una traiettoria qualunque ma questa traiettoria ci porta a incontrare a conoscere cose a incontrare altre persone ma nell'insieme di queste nostre traiettorie caotiche c'è comunque una sorta di predeterminazione questa è l'idea che porta avanti Ambrogio che si collega alla sua idea del tempo dice a me sembra che il tempo non esista tutto nel mondo sta fuori dal tempo altrimenti come potrei sapere il futuro che non c'è stato ancora penso che il tempo ci sia dato dalla misericordia di Dio affinché non ci smarrissimo perché la coscienza perché la coscienza umana non può fare entrare dentro di sé tutte le cose assieme noi siamo inclusi nel tempo a causa della nostra debolezza e quindi la nostra coscienza che ha bisogno da una parte ha bisogno del tempo perché non riesce a includere l'eternità dall'altra però è oppressa da questi vincoli da questi vincoli del tempo un po' il potere del tempo la limita ma quello che ci fa che ci dice Ambrogio Flecchia e tramite lui è il Badalaskin è che il tempo in realtà è un'illusione il tempo è una convenzione e noi possiamo come Ambrogio Flecchia e come Arsenio il nostro protagonista sono riusciti a liberarsi a liberare la propria coscienza dalle pastoie del tempo così con uno sforzo chiunque di noi riesce a liberarsi e ad abbracciare l'eterno e questo grazie ad esempio nel caso di Arsenio grazie all'amore l'amore eterno è l'amore che riesce a sconfiggere la forza distruttiva del tempo un amore che in vita diventa un amore eterno quindi uno dei temi principali che percorre tutta l'opera di Badalaskin è quella proprio del caratterizzatore del tempo il tempo che non esiste un altro tema appunto che viene trattato che è legato al tema del tempo ed è il motore di tutto il romanzo è l'amore perché tutto il cammino di Badalaskin scusate tutto il cammino del nostro protagonista del nostro eroe è spinto proprio dalla forza dell'amore dalla perdita dell'amore e stranamente nonostante la morte fisica nonostante la vita scettica del falling Christophskov nonostante poi la vita monacale dieremita questo amore diventa col tempo sempre più forte quindi l'amore come forza appunto distruttiva del tempo e lo stariez Nicandro che era stato vicino al giovane Arsenio quando aveva perso Ustina e quindi quando stava impazzendo gli dice quello che c'era fra te e Ustina era un amore grande voi eravate un'unica cosa una cosa sola perché la vostra era una congiunzione di spiriti voi eravate una cosa sola quindi adesso lei non c'è e però una parte di lei è ancora qui sulla terra e quella parte sei tu gli dice lo stariez quindi gli dice il tuo cammino è difficile perché la tua storia d'amore sta per cominciare comincia adesso adesso Arsenio tutto dipende dalla forza del tuo amore quindi tu porti in te una parte comunque di Ustina e la vera storia d'amore la vera storia dell'amore eterno delle congiunzioni delle anime comincia adesso e è un grande diciamo un grande messaggio di speranza è quello che dà questo romanzo poi se faccio in tempo vi dirò anche alcuni aneddoti su quella che è stata la ricezione la ricezione di questo romanzo ancora proprio due cose perché vedo che il tempo è tiranno e sta fuggendo un'altra caratteristica fondamentale di questo romanzo diciamo della scrittura di Vadalasky ma della scrittura anche di molti autori russi è l'ironia questa ironia che come vi dicevo prima appunto deriva dallo Scartor fra il nostro punto di vista contemporaneo e invece il punto di vista medievale perché poi questo libro ci fa conoscere un sacco di cose ci fa conoscere non solo la vita quotidiana nel medioevo ma riporta anche un sacco di credenze la morale medievale anche un sacco di credenze di superstizioni e Vadalasky è lì ironico soprattutto rispetto alle credenze del tempo quando si credeva appunto che la terra fosse piatta che la terra fosse finita che la Russia fosse il confine del mondo che sulla terra vivessero degli esseri mostruosi come i cinocefali quelli che avevano la testa di cane i satiri mi ricordo come si chiamano i sciapidi quelli che avevano un unico piede e poi parte dell'ironia invece si rivolge al carattere nazionale al carattere nazionale russo ci sono un sacco di frasi che prendono di mira prendono in giro alcune caratteristiche del popolo russo non so in una frase dice molti ritenevano che l'indagine a proposito della fine del mondo era cosa degna e rispettabile per i che russi amavano le imprese ambiziose questo lo dice poi all'interno del racconto con grande tono di ironia oppure dice molti russi sono cupie per via del clima e soprattutto si sottolinea il fatto che i russi stessi non capiscono se stessi e qui vi ho riportato una poesia che è diventata proprio emblematica di questa cosa il fatto che i russi l'animo russo sia troppo vasto come diceva Dostoevsky l'uomo russo è troppo vasto bisognerebbe cioè l'animo dell'uomo russo è troppo vasto bisognerebbe ristringerlo ha in sé un sacco di sfaccettature che neppure i russi stessi riescono a capire e c'è questa famosa poesia di Tchuchek dell'86 sul carattere nazionale dice la Russia non si intende con il senno nella si misura col comune metro la Russia è fatta a modo suo in essa si può credere soltanto quindi non si può che fatalisticamente accettare quel che è il carattere russo e proprio qui sto correndo mi dispiace ma appunto il tempo è poco le cose da dire sarebbero tantissime devo dire che mi trovo un po' spiazzata dal vedere solo me stessa dal non vedervi in viso quindi faccio anche un po' fatica a prendere i tempi e diciamo a calibrare bene e quindi sto tagliando un po' tutto con l'accetta ma per potervi far capire tutto quello cioè la ricchezza di questo romanzo e il messaggio finale appunto che è un messaggio di speranza come vi dicevo perché ci fa capire che qualsiasi cornice limiti la nostra coscienza è solo una cornice illusoria è solo una limitazione illusoria che noi possiamo superare che noi possiamo superare grazie all'amore perché solo l'amore può 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 renderci veramente liberi può aprire veramente la nostra anima ed è una cosa appunto che non riguarda solo i santi solo i giusti ma riguarda ognuno di noi e questa appunto è la vita di un giusto che non è una persona che non ha peccato anzi è proprio una persona che dal grande peccato commette un peccato mortale e colpevole della morte di una persona della nazione della morte di una persona quindi dal peccato cercherà di cercherà di redimersi e non solo non con una singola azione quindi diciamo è la storia di una persona capace di sacrificio che non è il sacrificio momentaneo di un singolo giorno ma è è un sacrificio quotidiano è una vita sacrificio quindi questo ed è per questo che ovviamente un personaggio del genere non poteva essere che è ambientato in epoca medievale in cui appunto ci sono queste narrazioni geografiche che parlano di queste vite dei giusti pronte al sacrificio però anche col sacrificio noi dovremmo appunto cominciare a sacrificare quella che è la nostra individualità e mostrare un po' quello che è più del nostro aspetto umano aprirci aprirci agli altri questo è il messaggio finale e l'ultima cosa che mi ricordo che avevo letto a suo tempo riguardo alla ricezione del romanzo da parte dei lettori ovviamente Vada Laskin ha ricevuto messaggi da parte dei lettori più svariati anche persone religiose che gli hanno fatto i complimenti gli hanno detto che questo romanzo è stato di grande consolazione gli ha scaldato il cuore una persona in un blog ha scritto che ci ha messo una vita a leggere il romanzo perché piangeva ogni riga ogni pagina che leggeva non ce la faceva piangere ma piangeva di gioia quindi doveva costantemente asciugarsi le lacri ci ha messo tantissimo a leggerlo oppure ancora Vada Laskin ha ricevuto un sacco di messaggi da parte di persone che erano in ospedale dicendo che questo libro ha dato loro un grandissimo conforto una grandissima gioia durante la loro permanenza in ospedale quindi un libro che può essere letto in diversi modi quindi come una sorta di geografia un libro di avventura perché tutto e per tutto è ricco di avventure un libro che ci fa conoscere anche in modo molto interessante quello che è la vita del medioevo le credenze e la morale medievale è da parte ad esempio della critica liberale della stampa liberale un libro come dicono loro anche modernista perché ha un linguaggio nuovo ha un linguaggio che mescola la lingua slavo ecclesiastica con lo slang con il linguaggio quotidiano con il linguaggio della grande letteratura con il linguaggio classico della grande letteratura cose che un po' si perde ovviamente in traduzione oppure appunto possiamo leggerlo come una storia spirituale comunque lo si voglia leggere io non fatevi scoraggiare da quello che vi ho detto se non vi è piaciuto e dimenticatelo se quello che ho detto non vi è piaciuto ma veramente andate a leggere il libro leggetelo cominciate a leggerlo perché una volta che comincerete dalla prima pagina non vi non vi staccherete più veramente è un libro che merita e secondo me è uno dei più belli libri degli ultimi anni ecco io con questo ho finito se ci sono domande sono qui sono state puntualissime se dici non vedo domande Laura ci diamo appuntamento per il prossimo 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 incontro se non ricordo male il 29 di marzo il 29 di marzo lunedì 29 di marzo con un autore ucraino che scrive però in russo con Nikitin e Victoria Park voi intanto cominciate a leggerlo chi c'è comincia a leggerlo se magari l'avrete cominciato a leggere per il 29 magari mi dite anche che cosa ne pensate bene grazie a tutte per l'attenzione grazie Martina grazie per l'accadienza e ci vediamo bene a presto buona giornata a tutti ciao 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 ciao